Fabio Capello, ex allenatore e noto telecronista di calcio, ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Gazzetta dello Sport per parlare della recente vittoria dell'Inter contro l'Udinese, partita che ha segnato il ritorno al gol di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è stato il protagonista della doppietta, cosa che ha emozionato sia i tifosi che lo stesso Capello, che ha sottolineato l'importanza del risveglio di Lautaro. Nell'intervista Capello ha sottolineato le indiscutibili qualità di Lautaro e Dusan Vlaovic, altro attaccante anche lui è andato a segno recentemente con la Juventus. Secondo lui la capacità di questi due giocatori di recuperare le buone prestazioni è fondamentale per le loro squadre, soprattutto in un momento decisivo della stagione, con la Champions League alle porte. L'ex allenatore ha chiarito che, nonostante attraversino fasi difficili, i giocatori con il talento di Lautaro trovano sempre il modo di superare i momenti di siccità. Capello ha elogiato anche la coppia Lautaro-Marcus Thuram nell'attacco dell'Inter. Secondo lui i due giocatori hanno mostrato grande armonia in campo, cercandosi sempre l'un l'altro e creando insieme buone occasioni da gol. L'argentino, noto per le sue doti tecniche e la sua leadership, sembra essere tornato alla sua forma migliore, il che aumenta le possibilità dell'Inter nelle prossime competizioni. Il ritorno al gol di Lautaro rappresenta un sollievo per la squadra di Simone Inzaghi, che conta molto sul proprio capitano per definire partite complicate. D'altronde Capello non ha mancato di segnalare alcuni punti di attenzione per l'Inter. L'ex allenatore ha parlato delle fragilità difensive che hanno colpito la squadra nei primi turni di campionato. Con sette gol subiti in sei partite, l'Inter è lontana dalla solidità difensiva dimostrata nella scorsa stagione. Capello ha sottolineato che, in parte, ciò è dovuto a un centrocampo che non ha saputo proteggere la difesa con la stessa efficacia di prima. Questo filtro a centrocampo, che in passato è stato uno dei punti di forza dell'Inter, sembra venire meno, lasciando più esposta la linea difensiva. Il commento di Capello è perfettamente logico, dato che la difesa è sempre stata uno dei pilastri dell'Inter e questo calo di rendimento nel settore difensivo potrebbe compromettere il cammino della squadra. Inzaghi dovrà lavorare per correggere questi problemi, soprattutto se l'obiettivo dell'Inter è quello di lottare per lo scudetto e avanzare con forza in Champions League. Aggiustare la fase difensiva sarà fondamentale per l'Inter non solo per continuare a vincere, ma anche per far sì che le partite si controllino con più calma, senza fare troppo affidamento sulle palle perse nel tabellone. Un altro punto sollevato da Capello è che, se l'Inter riuscisse a correggere questo aspetto difensivo, gran parte dei suoi problemi sarebbero risolti. Con un attacco ben funzionante, grazie alla coppia Lautaro-Turam, la squadra ha già dimostrato di avere il potenziale per affrontare qualsiasi avversaria. L'obiettivo ora è consolidare la difesa e garantire che gli errori non compromettano la prestazione della squadra nelle partite importanti. Ora, tifosi nerazzurri, cosa ne pensate di questa analisi? Siete d'accordo che il ritorno al gol di Lautaro possa rappresentare una svolta per la squadra? E per quanto riguarda la difesa, crede che l'Inter riuscirà ad aggiustare questi dettagli per essere ancora una volta imbattibile in difesa? Lascia la tua opinione nei commenti.